Per quanto riguarda Gülen, non abbiamo ricevuto richieste di estradizione specifiche, anche se il presidente Erdogan, nei suoi commenti pubblici l'altro giorno, ha invitato gli Stati Uniti a restituirlo alla Turchia. Io ho detto chiaramente al ministro degli esteri che c'è un processo molto formale per farlo, che ci deve essere una richiesta di estradizione formale presentata tramite i canali legali adeguati. C'è anche uno standard nel nostro ordinamento giuridico per farlo. Ho invitato il ministro degli esteri a mandarci, qualunque sia la richiesta che ci manderanno, delle prove, non delle supposizioni, vogliamo prove concrete e irrefutabili che superino l'esame che prevede l'ordinamento giuridico di moltissimi paesi sull'estradizione. Se le prove concrete che ci daranno rispetteranno quello standard, non abbiamo alcun interesse a opporci a onorare il trattato che abbiamo con la Turchia sull'estradizione. Ma vorrei sottolineare che non abbiamo mai ricevuto una richiesta in questo senso, non abbiamo mai ricevuto queste prove e non faremo assolutamente niente per ostacolare un processo legittimo che rispetti il trattato.